Siamo in Piazzale della Libertà ai piedi della torre panoramica di Pesaro dove il sindaco Matteo Ricci ha deciso quest'anno di tenere il suo discorso finale alla città, un appuntamento che di solito si teneva alla pescheria e che invece il sindaco ha deciso di tenere qui nella trazione che sta tenendo banco in questo inverno di Pesaro 2018, l'ingresso costa 20 euro, il raccolto verrà consegnato alla Caritas come donazione benefica. Ecco andiamo a sentire che cosa ha detto il sindaco Matteo Ricci intervistato dai giornalisti del Carlino e del Corriere Adriatico. Grazie per la partecipazione, è una cosa anomala, ovviamente abbiamo qualche problema tecnico e logistico, ci scuserete, vogliamo mettere degli schermi ma non ce l'abbiamo fatta, però come vi ho detto prima, passando, se mettete la diretta Facebook dalla mia pagina potrete vedermi e magari anche sentire un po' meglio rispetto a quello che già sentite con l'impianto di amplificazione. Voglio ringraziare De Carlo per averci consentito questo spazio perché il primo contributo alla Caritas lo ha dato lui perché noi stiamo impegnando per un'ora, un'ora e mezza la ruota e quindi diciamo non è aperta ai clienti e quindi il primo contributo alla Caritas lo ha dato lui e l'altro ringraziamento lo voglio fare a tutti voi perché abbiamo già raccolto 1000 euro per la Caritas e quindi è un'iniziativa di racconto della città, un dialogo sulla città ma è anche un'iniziativa di beneficenza e noi consegneremo questi 1000 euro prima della visilia di Natale alla Caritas e di conseguenza le attività in particolar modo della mensa che quotidianamente fanno. Quindi grazie a tutti per la partecipazione. Inoltre ringrazio Fiaccarini, nuovo direttore del resto del Carlino, Simonetta Marfoglia del Corriere Adriatico che mi intervisterà, mi intervisteranno, insomma dialogheranno con me sulla città, un po' staremo in alto ma gran parte staremo in basso perché la ruota non può stare troppo tempo in alto e poi faremo anche un giro di microfono in modo tale che le persone che sono qua potranno anche interloquire, fare domande, suggerimenti, insomma in qualche modo contribuire al dialogo sulla città. Grazie ancora, io lascio la parola ai due direttori giornalisti. Grazie ancora. Buonasera, allora parto io come diceva il sindaco appena arrivato a Pesaro e dal 5 novembre qua alla guida del Carlino e tutti mi chiedono qual è stata la prima impressione e io rispondo alla prima impressione non può che essere il casello autostradale perché quando arrivo qua il primo impatto è quello e penso che per tutti coloro che arrivino qua. Lei ne ha parlato ieri, mi parlo, di possibili sviluppi. Nella rassegna stampa qua leggevo l'anno scorso, le diceva le tempiste che concordate con Società Autostrade prevedono che tutto venga realizzato entro il 2019, non sarà così evidentemente. Come sarà allora? I tempi saranno un po' più lunghi del previsto però devo dire che ieri ho tirato un bel sospiro di sollievo dopo l'incontro al Ministero perché dopo i fatti di Genova il contenzioso che si è aperto tra il governo e Società Autostrade, Società Autostrade ha tirato il freno a mano su tutte le procedure che aveva in corso. Stiamo parlando di circa 10 miliardi di opere in giro per l'Italia e ho temuto molto perché abbiamo spinto tantissimo affinché queste opere di Pesaro sono circa 75-90 milioni di euro in verità complessivi potessero partire presto e temevo il peggio. Invece per fortuna l'interquartiere di Muraglia è già partita, abbiamo avviato il cantiere qualche settimana fa ed è un'opera importante che il quartiere di Muraglia aspettava da tempo ed è un'opera strategica perché ci consente di collegare gli interquartieri verso sud e l'ospedale di Muraglia e ieri abbiamo avuto l'ok anche sul resto delle opere, Società Autostrada ha finito di progetti esecutivi, verranno mandati entro la fine dell'anno al Ministero quindi io credo proprio i primissimi mesi dell'anno prossimo verranno approvati per andare in gara. Quindi diciamo il calendario è un po' slittato rispetto a quello che speravamo però 18 è iniziato il cantiere dell'interquartiere, 19 inizieranno i cantieri delle altre opere e il 20 inizierà il cantiere del casello. Quindi noi speravamo in tempi un po' più brevi però l'incontro di ieri è stato molto positivo perché stiamo parlando di opere strategiche per la città e di investimenti straordinari che aspettiamo e che vogliamo a tutti i costi. Buonasera a tutti, allora visto che siamo in tema di domande sulle infrastrutture faccio io la seconda domanda che riguarda invece il palazzetto dello sport, il vecchio hangar nel senso che così come per l'interquartiere e il casello c'erano stati ripetuti annunci e poi i tempi sono slittati. Anche per il vecchio hangar che era diciamo uno dei motivi di punta capito del sindaco, di lei sindaco, da consegnare alla città per il 2019 e per il roffo del 2019 invece penso che l'avvio sia rilento così come anche per il bocciodromo ci sono qualche problemi. Può dare qualche tempistica più precisa o qualcosa si sia sbloccato nel frattempo? Grazie. Ma fare i lavori pubblici in Italia è complicatissimo e lo sappiamo, però sul vecchio palazzetto io sono già molto soddisfatto perché quando sono diventato sindaco mi hanno detto che non era ristrutturabile, tant'è che a un certo punto ho detto vabbè allora lo butto giù e io ero sicuro che si potesse ristrutturare, abbiamo dovuto fare una perizia nuova che ha dimostrato che si poteva ristrutturare. Poi mi è stato detto che non avremmo trovato i soldi e invece abbiamo trovato questi soldi, parliamo di circa 4 milioni e mezzo, 1 milione e 2 di scavolini e 3 milioni e 3 del comune di Pesaro e di Pesaro parcheggi e quindi come dire, poi mi hanno detto ma al progetto non parteciperà nessuno, la gara andrà deserta, hanno partecipato in 10. La gara è stata vinta da una ditta che è in ritardo sul cronoprogramma di circa 6 mesi. Dovevano iniziare i lavori effettivi a giugno, invece inizieranno a gennaio, ci sono stati problemi nel passaggio tra progetto definitivo e progetto esecutivo però finalmente si partono, hanno iniziato i primissimi lavori rispetto alle caldaie, all'impiantistica e da gennaio inizieranno i lavori più grossi. Quindi è chiaro che noi ci auguriamo, ci aspettiamo sempre che le cose vengano fatte il prima possibile, però dobbiamo essere anche consapevoli che fare grande operazioni in Italia è molto complicato. Della mole di investimenti che abbiamo messo in piedi, le cose piccole sono già state realizzate o sono in corso, le cose più grandi o sono partite o devono essere realizzate. Questo per una tempistica legata ovviamente alla dimensione del cantiere. Però come spiegavo questa mattina in una conferenza stampa che abbiamo fatto con i sindacati sul bilancio, noi grazie all'operazione dello sblocco del patto di stabilità ottenuta a Pesaro dal governo tre anni fa ormai, una norma che abbiamo contribuito a scrivere noi con l'assessore delle noci, siamo passati da 2 milioni e mezzo di investimenti all'anno che il comune faceva a 30 al primo anno, 20 al secondo e 25 quest'anno. Quindi complessivamente noi passiamo da 7 milioni e mezzo in un triennio di investimenti a 75, cioè abbiamo decuplicato gli investimenti della città. È chiaro che le cose più piccole le abbiamo già viste, gli asfalti, le ciclabili, gli interventi negli impianti sportivi piuttosto che gli interventi sulle scuole, le cose più grandi sono in corso, l'ex tribunale sono partiti i lavori, la nuova scuola sono partiti i lavori, il vecchio palazzetto l'ho detto poco fa, il bocciodromo sono partiti i lavori, dovranno fare qualche intervento in più di bonifica che non era previsto, così vanno le cose purtroppo. Noi lavoreremo per fare tutto il più velocemente possibile, però questa è una città che sta cambiando profondamente anche in termini di investimenti, perché fare in tre anni 10 volte di più gli investimenti che il comune era in grado di fare prima significa sostanzialmente cambiare drasticamente la città. Se a questo poi aggiungiamo le risorse esterne, il bando delle periferie 11 milioni, 6 milioni e 2 per l'ex tendenza di finanza della nuova questura, 3 milioni per Palazzo Ricci, Palazzo della Musica, eccetera, 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 più i soldi di società autostrade, noi siamo dentro un periodo veramente storico di investimenti del quali dei risultati, molti risultati ancora dobbiamo vederli, ma noi che sappiamo il lavoro che c'è dietro e quello che è in corso, sappiamo che è una mole di lavoro veramente straordinaria che ha già iniziato a cambiare e cambierà profondamente la città. Resto su questo tema per chiedere, lei parla di investimenti, ma sono sempre gli stessi di cui si è parlato negli anni scorsi, parliamo di investimenti nuovi e a proposito di opere pubbliche e di tempi per la realizzazione di opere pubbliche, sappiamo come va il mondo, diceva lei prima, io ho qui una pagina che abbiamo pubblicato, le sfide del 2017 per le opere pubbliche, ci sono il Bocciodromo, il Pentatron, via San Francesco, il Vecchio Palace, San Domenico e via la Marmora, alla fine di queste sfide quante ne ha vinte? Voglio dire, la domanda la concludo, perché nonostante siate coscienti delle difficoltà nella realizzazione delle opere pubbliche in Italia vi lasciate travolgere dall'annuncite? Intanto perché abbiamo l'ansia di fare le cose, un buon amministratore deve avere l'ansia di fare le cose, noi vorremmo fare più cose possibili nel più breve tempo possibile, dopodiché se prendiamo quest'articolo, il Bocciodromo sono iniziati i lavori, la piscina del Pentatron è finita, è stata inaugurata e adesso manca la parte superiore, sì ho capito ma quella rischiava di essere una grande incompiuta e oggi è diventata una bellissima piscina frequentata da tanta gente. Via San Francesco ha vinto la gara, una ditta che insomma l'abbiamo dovuta cacciare ma siamo riusciti a finirlo e oltre via San Francesco qui non c'è Piazza Olivieri, Piazza Moschia, il Corso, la Piazza della Libertà, tante opere che ovviamente nel frattempo sono state realizzate. Il Vecchio Palace, l'abbiamo detto, Via La Marmora il cantiere in corso, basta andare in Via La Marmora la scuola in corso, su Via La Marmora il tema è molto interessante perché lì abbiamo tenuto, abbiamo diciamo incrociato le risorse del GSE, per cui abbiamo innescato con la scuola un meccanismo virtuoso molto interessante perché praticamente abbiamo abbattuto dei capannoni vecchi e stiamo costruendo la scuola. Il 60% dell'investimento sulla scuola che mi pare sia circa 3 milioni di euro il GSE se li ridarà. Con i soldi del GSE che ci ridà per la scuola, il 60% della scuola ci facciamo una nuova palestra a fianco alla scuola. Buttando giù la vecchia scuola di Piazza all'Olivieri ci danno il 60% anche della palestra e quindi con il 60% della palestra faremo il centro civico e sociale al posto dell'Olivieri. Abbiamo innescato un meccanismo virtuoso col GSE che durerà degli anni a dimostrazione di come il tema degli investimenti rimane un tema centrale. Il San Domenico stiamo aspettando la fine dei lavori dell'ex tribunale perché lì abbiamo vinto un banno INAIL di 5 milioni e 100. Il banno INAIL è legato alla fine dei lavori all'ex tribunale. Come finiamo i lavori all'ex tribunale che sono iniziati come vi dicevo ci daranno i 5 milioni e 100 e con quei 5 milioni e 100 ristrutturiamo il San Domenico e lo vogliamo far diventare un polo del food. Quindi sicuramente ci vorrà tempo però ci sono tutti oggetti uno dietro l'altro che nei prossimi anni uno alla volta vedranno luce. Molte cose si sono viste come dicevo prima. Interventi fino a mezzo milione di euro sono stati tutti realizzati. Gli interventi sopra queste cifre, un po' per la complicazione del codice degli appalti, un po' perché bisogna avere anche fortuna rispetto alle ditte che vincono, sicuramente hanno dei tempi più lunghi. Il nostro impegno è far sì che questi tempi siano i meno lunghi possibili. Ma lei non teme che proprio queste incompiute che andranno a pesare sul 2019 potranno essere temi di campagna elettorale da parte dell'opposizione e li potranno anche rinfacciare queste cose che l'annuncite o comunque questo sindrome degli annunci? No, le incompiute sono opere che rimangono lì ferme per anni e non si realizzano. Io sto parlando di opere che non si sono mai realizzate e che si stanno facendo. Quindi l'incompiuta scusa la correzione ma è proprio un termine che non esiste. Quindi non ho capito di che cosa si dovrebbe lamentare l'opposizione di soldi che finalmente abbiamo portato a Pesaro da Roma che non erano mai arrivati, di fondi europei che abbiamo intercittato più di ogni altra città delle Marche, di lavori pubblici che non erano mai partiti, dell'aver sbloccato il patto di stabilità. Certo, possono tifare contro Pesaro e sperare che magari qualcuno di questo cantiere venga realizzato più tardi. Ma una buona opposizione dovrebbe aiutare il Comune a fare le cose, non a tifare contro Pesaro sperando che si facciano meno cose possibili. Cambio tema e in questo periodo dopo il mio arrivo a Pesaro mi ha sorpreso la gestione della questione del monumento alla resistenza. Cioè lei a un certo punto si è uscito dicendo sposto il monumento e ci faccio un parcheggio. E io, domandola che sindaco decisionista, vengo da un sindaco, Guido Castelli, di Ascoli Piceno, di scuola di destra, insomma, non l'ho mai visto così decisionista. Arrivo a Pesaro e trovo il sindaco PD che mi sposta il monumento alla resistenza da un giorno all'altro. Quindi mi ha stupito questa cosa, poi però questo decisionismo si è rivelato virtuale in questa circostanza, nel senso che dopo 15 giorni ha dovuto in qualche modo fare marcia indietro. Allora mi chiedo perché l'ha gestita così quella vicenda, perché non evitare quell'annuncio così roboante e dando la cosa per fatta, invece avviare su un tema così inevitabilmente sensibile una trattativa. Faccio un esempio, se lei si fosse presentato con l'Ampi dopo averci parlato, l'Ampi non era completamente in disaccordo su questo spostamento. Se lei avesse proposto il tema dopo averne discusso con l'Ampi, io penso che sarebbe stato già un modo diverso di porre il tema, magari avrebbe perso un po' più tempo all'inizio ma forse avrebbe portato a casa il risultato, così alla fine il risultato a casa non l'ha portato. Intanto io penso che un sindaco debba avere la capacità di decidere, perché i cittadini ti eleggono per decidere. Ovviamente devi avere la capacità di coinvolgere le persone, di creare meccanismi partecipativi e in questi anni ne abbiamo inventate veramente di tutti i colori, se volete poi dopo ne parleremo, però c'è un momento nel quale devi decidere. Io cito sempre come emblema della decisione la piazza Mosca. Dopo due giorni che divento sindaco mi portano a inaugurare una mostra in piazza al Musei Civici e trovo davanti ai Musei Civici sostanzialmente un parcheggio con almeno 25 macchine parcheggiate. Mi rivolgo al mio capo di gabinetto che capendo subito qual era la mia intenzione mi dice non ci pensare neanche perché in questa piazza abitano persone molto importanti. La mattina dopo alle 8 e mezza ho fatto l'ordinanza via le macchine. Ovviamente ho dovuto girare un po' la larga per qualche mese perché i residenti mi hanno dato la caccia, ma noi avevamo fatto tutta una campagna elettorale dicendo che avremo scommesso sulla bellezza e sulla cultura come motori di sviluppo e allora devi essere coerenti, devi avere la capacità di decidere. Se vuoi puntare sulla bellezza e sulla cultura non puoi avere le macchine davanti ai Musei Civici della città. Via le macchine. Se vuoi puntare sulla musica e siamo diventati città unesco della musica non puoi avere le macchine davanti al conservatorio. Via le macchine del conservatorio. Via le macchine degli ingressi principali della città. Via San Francesco piuttosto che il Corso. E a un certo punto non mi ricordo se era il Carino o il Corriere Adriatico. Un giorno fanno un titolo dicendo Ricci è la mission impossible delle macchine in piazza. Perché in piazza c'erano le macchine della polizia parcheggiate, della prefettura eccetera. Dopo dieci giorni c'erano le sfere e le macchine in piazza non ci sono più. A dimostrazione di come quando è ora di decidere si decide. Stessa cosa nel monumento della resistenza. Io non ho annunciato una cosa. Prima ho fatto un piccolo sondaggio su Facebook. E devo dire che è stata una delle idee più condivise dai cittadini pesaresi. Poi ho parlato con un po' di gente. Ho parlato con Lampi che era d'accordo sullo spostamento. Stavamo già individuando le aree dove spostarlo perché io mi si può dire tutto ma non che non sono antifascista. Ho avuto la scorta 15 giorni per le aggressioni verbali e le minacce avute da Casa Pound. Quindi di certo tutti sanno che sono uno dei sindaci più antifascisti d'Italia. E il mio primo obiettivo era spostare il monumento in un posto più adeguato. Perché secondo me è una vergogna che il monumento che ricorda i morti e i partigiani del nostro territorio sia sotto un cavalcavia. un luogo mai frequentato da nessuno. Perché è stato prima è nato il monumento e cinque anni dopo è nato il cavalcaferrovia. E quindi il cavalcaferrovia ha ammazzato il monumento. Mai nessun pesarese ha frequentato quel monumento se no noi, pochi di noi, nella cerimonia del 25 aprile. E quindi il mio primo obiettivo era dare dignità a quel monumento. Ho trovato 50.000 euro per spostarlo. E avevamo ragionato con Lampi tra Piazzale Matteotti e Viale della Liberazione come le due aree più ottimali nel quale spostarlo. Al tempo stesso era la classica operazione che si prendevano tre piccioni con una fava. Perché da una parte si valorizzava il monumento. Dall'altra avremmo dato una risposta in termini di parcheggio al centro storico e sappiamo quanto bisogno c'è soprattutto in quella parte di città per il centro storico. In una zona vicina all'ospedale, vicina alla stazione, vicino al teatro Rossini. E la terza, il terzo piccione, è il fatto che avremmo dato una mano alle forze dell'ordine rendendo molto più aperta e visibile un'area che è costantemente sotto controllo dalle forze dell'ordine perché è un'area dove negli ultimi anni si è creato degrado e microcriminalità. Un'operazione di buon senso. Perché mi sono fermato? Perché siccome avevano capito che io andavo avanti, cosa hanno fatto? Coloro che non erano d'accordo si sono rivolti alla sovrintendenza. I nostri tecnici avevano considerato quel bene un bene immobile, perché è un bene fisso, non è un bene mobile, e per i beni immobili il parere della sovrintendenza va chiesto se il bene ha più di 70 anni di vita. E quindi nei rapporti che avevano con la sovrintendenza al parere della sovrintendenza non serviva. Dopo le polemiche che ci sono state, improvvisamente ci arriva un messaggio della sovrintendenza che dice no, secondo noi è un bene mobile, non si capisce perché era mobile, e quindi 50 anni, non più 70 anni. E quindi dobbiamo dare il parere noi. Tradotto, ho capito che quei 50.000 euro non mi bastavano più per spostarlo perché sarebbero state tali le prescrizioni che ce ne volevano 300.000. e siccome era un'operazione che volevo fare in due mesi ho capito che mi ci volevano due anni. E realisticamente ho chiuso un dibattito che era diventato un dibattito ideologico insopportabile per non far perdere tempo ai miei collaboratori e per concentrare le forze del comune su un'altra cosa. Tenuto conto che fra l'altro noi col bando periferie riqualificheremo tutto il sotto del cavalcaferrovie e il sottopassaggio dei cappuccini e tutta l'aria intorno alla stazione Via dell'Acquedotto. L'unico posto che non riusciremo a ristrutturare è proprio quel monumento. Mi è rimasto sullo stomaco ma ho dovuto fare un ragionamento diciamo di realpolitik perché in breve tempo e con pochi soldi non riesco a spostarlo. Vedremo poi nei prossimi mesi, nella prossima legislatura, se vorremmo riaprire con serietà un dibattito che mi ha molto infastidito perché dire a me che non ho a cuore i temi della resistenza è veramente offensivo e mi sono anche un po' offeso. Aggiungo, scusa intervengo ancora, intervengo ancora perché poi all'indomani del dietrofronto che lei ha motivato appunto con il messaggio della sovrintendenza, il collega Roberto Damiana è andato a parlare con la sovrintendenza e ha chiesto lumi su questa cosa. La sovrintendenza, almeno alcuni rappresentanti della sovrintendenza hanno dichiarato che non erano intervenuti, che non avevano fatto niente. Ci sveli questo giallo perché non abbiamo capito chi e come insomma è intervenuto su questa vicenda. Guarda, noi abbiamo ottimi rapporti con la sovrintendenza quotidiani e ringraziamo la sovrintendenza per la collaborazione su tanti aspetti della città. Dopodiché io non accetto che mi si dica che sono bugiardo. In comune ci sono due mail e un messaggio. Per serietà anche dei funzionari che l'hanno ricevuto non gli ho resi pubblici, non mi sembrava importante. Sicuramente la questione per me è chiusa, però di certo il motivo per cui ho rallentato o comunque ho deciso di non affrontare questa questione, come ho detto, è legato esattamente a questo. Poi io so bene che la sovrintendenza non è detto che avrebbe dato un parere negativo, magari avrebbe dato anche un parere positivo, ma sicuramente sarebbe servito molto più tempo e molti più soldi. Siccome volevo fare un'operazione con una cifra già stanziata a bilancio nel 2018 e in tempi brevi, perché la legislatura è finita, volevo fare una cosa in pochi mesi, ho deciso di fermare il carro e vedremo se nei prossimi anni si potrà riprendere seriamente, magari fuori dalla campagna elettorale, in maniera un po' meno politicizzata questo dibattito. Il dibattito che al momento è in corso proprio sul monumento, da una parte, da uno schieramento che si è dichiarato, c'è anche un gruppo Facebook che si chiama Viva la Libertà e che sta lanciando anche una serie di proposte alternative a quel luogo, tipo fare una sorta di passeggiata ideale dal Parco delle Rimembranze fino agli Ortigiuli e quindi per il recupero delle mura roveresche. Ci sono anche dei professionisti che hanno provato a lanciare una sorta di progetto per una viabilità alternativa. Diciamo, sono progetti, proposte che potrebbero interessarle oppure praticamente diciamo di no a priori? Tutti i progetti, tutte le idee sono interessanti, dopodiché un amministratore deve fare i conti con le risorse perché se mi si presentano progetti di viabilità nuova che costano milioni di euro è chiaro che diventa difficile. Comunque ho chiesto ai miei tecnici di valutare tutte le proposte che sono state fatte e ovviamente la valuteremo tutte attentamente e sono anzi grato perché siano state avanzate delle proposte. Dopodiché io temo che quel posto difficilmente rimarrà frequentato perché il problema principale di quel posto è il rumore. Quello è il posto più rumoroso di Pesaro, non si è mai fatto nulla lì perché quello è il posto più rumoroso di Pesaro. Quindi non si è mai fatta una conferenza, non si è mai fatto un concerto, non si è mai qualche tossico o c'è qualche persona che staziona lì. Non si è mai fatto storicamente nulla per questo motivo. Io faccio sempre esempio di mio nonno. Mio nonno abitava in centro e io quando andavo da lui mi portavo in giro per Pesaro nella bicicletta sulla canna. Io ricordo da bambino che mio nonno mi portava a vedere le cose più interessanti di Pesaro. Mi portava al porto, mi portava in piazza, mi portava alla palla, mi portava nel lungomare, mi portava a vedere il monumento di Garibaldi. Non mi ha mai portato lì e nessun nonno, nessun babbo mi ha mai portato i figli lì. Ci sarà un motivo, no? Il motivo è che il posto più rumoroso di Pesaro e lì non si è mai andato nessuno né a leggere il giornale né a passare una mezz'ora in tranquillità. Lo sanno tutti i pesaresi, per questo credo che si sia sviluppato un dibattito esagerato, per molti aspetti pretestuoso e penso che la città abbia perso un'occasione. Dopodiché vedremo in futuro se si riuscirà a riprendere una discussione più serena e più costruttiva. Temo che la vicinanza della campagna elettorale non abbia influito positivamente. Cambio argomento, ci sono novità sullo spostamento della questura all'ex intendenza? Ma si va avanti, si va avanti e sarebbe tragico tornare indietro. Sono 30 anni che si parla dell'esigenza della nuova questura. Ogni tanto che arrivava il ministro degli interni veniva Pesaro e prometteva la nuova questura. Poi i soldi per la nuova questura non c'erano mai. In questo mandato siamo riusciti a trovare prima 4 milioni, che poi sono diventati 6 milioni e 2, per la nuova questura e riqualificare un contenitore in pieno centro all'ex intendenza di finanza che ha contribuito a spegnere un pezzo di centro storico. In passato i sindacati di polizia volevano la questura in centro, avranno la questura in centro, una questura con tutti i criteri di sicurezza sismica che ovviamente la situazione attuale richiede, tutte risorse statali. Chi mette in discussione questo investimento significa che non vuole la nuova questura per continuare a lamentarci che non si fa la nuova questura. Noi siamo gente pragmatica, vogliamo risolvere i problemi e stiamo insieme al demanio andando avanti sui lavori affinché la nuova questura possa essere realizzata il prima possibile e affinché un bene nel pieno centro storico possa essere restituito alla città il prima possibile. Cambio anche io argomento anche perché da qui c'era quello spot immagina puoi, qui si vede veramente tutta Pesaro e soprattutto vedo la zona mare e gli alberghi di Pesaro. In uno degli ultimi consigli comunali, forse l'ultimo, dove si è discusso di Pesaro 20 e 30, lei ha affrontato il problema della Pesaro turistica e soprattutto delle strutture ricettive e soprattutto ha lanciato una sorta di appello agli albergatori per dire sì va bene gli eventi e tutto quanto però dobbiamo avere degli alberghi in grado di accogliere le persone e gli ospiti e di non mandarle, non so, a Cattolico, Riccione, nelle altre strutture. Mi ricordo che un paio di anni fa c'era stata una delibera sulla riqualificazione turistica, sulla riqualificazione degli alberghi per cui voi come comune assegnavate degli incentivi, vedo qui sotto mi passa l'hotel principe, la madre di tutte le brutture, assegnavate degli incentivi a quegli albergatori che avrebbero in qualche modo fatto qualcosa sulle strutture che erano già chiuse, dandogli capito degli incentivi a livello di ristrutturazione, possibilità edilizie. Due anni dopo a che punto siamo? Allora, tanto quattro anni fa gli albergatori, come altre categorie, dicevano il comune non fa abbastanza sul turismo. Noi siamo partiti non a caso dagli investimenti del centro del mare per dimostrare che non solo volevamo rendere la città più conosciuta, più visibile, più competitiva, più viva, come anche questa torre in qualche modo dimostra, ma volevamo essere coerenti anche in termini di investimenti e la piazza che vediamo qua sotto, gli investimenti che ho elencato prima del centro storico, sono un esempio di come l'amministrazione sia intervenuta sulla red urbano e sulla riqualificazione di zone fondamentali per il turismo. Di certo se vogliamo che la strategia turistica produca i risultati che ci aspettiamo e io credo che siamo nella strada giusta e possiamo solo migliorare, abbiamo ancora tanta strada da fare ma credo che abbiamo imboccato la strada giusta, abbiamo bisogno in futuro di più alberghi di migliore qualità. Noi abbiamo messo in campo il massimo degli incentivi possibili, oggi ci sono incentivi statali importanti, la regione ha fatto un bando per la riqualificazione degli hotel al quale molti hotel hanno partecipato, a Pesaro è l'unica città delle marche dove chi ristruttura un albergo e ne migliora la qualità, per tre anni non paga le tasse comunali e non paga gli oneri di urbanizzazione. Quindi noi abbiamo aggiunto il massimo degli incentivi locali affinché si possano trasformare gli alberghi e si possano fare alberghi a Pesaro. E questa è la carota. Poi abbiamo dato il bastone e il bastone sono le ordinanze antidegrado che abbiamo fatto per obbligare a riqualificare gli obrobri che avevamo in giro per la città. L'hotel Principe che vediamo qui davanti rimane brutto ma non è il palazzo bombardato di Sarajevo che avevamo fino all'anno scorso. Fino all'anno scorso era un edificio completamente degradato, era la cartolina più brutta della città di Pesaro, grazie all'ordinanza antidegrado che abbiamo fatto è stato sistemato, ritinteggiato e sempre brutto ma di certo molto meno impattante e non degradato come prima. Stessa cosa è stata fatta all'hotel Vienna, stessa cosa è stata fatta in altri edifici della zona mare e continueremo in questa direzione perché il concetto che abbiamo posto è che un luogo degradato in una zona strategica della città produce un danno pubblico e svalorizza tutto ciò che c'è intorno. Dopodiché per gli alberghi che invece sono chiusi da più di cinque anni abbiamo dato la possibilità di trasformare quegli alberghi anche in appartamenti turistici purché si riduca la volumetria, cioè la sostanza qual è? Noi vogliamo che fai l'albergatore e vogliamo alberghi migliori ma più alberghi e di migliore qualità e ti diamo tutti gli incentivi possibili per farlo. Se lo tieni degradato ti penalizziamo, se non interveni interveniamo noi e ti carichiamo i costi e al tempo stesso per le situazioni oggettivamente non riqualificabili ti diamo l'opportunità di trasformarle ma non di fare la speculazione, per cui se non fai l'albergatore ti devi accontentare e almeno la città ne avrà un beneficio nella riduzione della volumetria e nello skyline della zona mare. Questa è la filosofia, ovviamente ci vorrà tempo, io però spero che vengano investitori anche da fuori perché Pesaro non ha grandi catene alberghiere, ci sono dei segnali positivi, il fatto che l'hotel Flaminio sia stato comprato da un imprenditore russo secondo me è una cosa positiva, il fatto che sia arrivato il mercurio, il fatto che alcuni fondi immobiliari siano guardando con interesse a grandi strutture, penso all'ex Bramante piuttosto che all'ex Villa Marina, israeliano, cinesi, cioè si sono fatti vivi alcuni fondi importanti che dimostrano che stanno cominciando a guardare a Pesaro con una certa attrattività. Del resto, in piccolo, anche questa torre è la dimostrazione che una città più attrattiva diventa più competitiva in grado di attrarre anche investimenti privati. Se prendiamo De Carlo, questo investimento lo poteva fare in qualsiasi parte d'Italia ed Europa, c'è un'unica torre in Italia, era Bari, era destinata a Londra. Perché ha deciso di investire qui a spese suo senza far spendere un euro al comune? Perché probabilmente ha visto una città dinamica che sta scommettendo su se stessa, che sta provando a cambiare e ha deciso di investire nella nostra città. Allora io credo questo, che il pubblico è fondamentale perché dà l'indirizzo, ma poi la differenza la fanno i privati, perché l'economia la muovono i privati. Gli investimenti pubblici possono essere un punto di partenza, diciamo uno stimolo per partire, ma poi la differenza la faranno i privati. Quindi tutta la strategia turistica che abbiamo messo in piedi funzionerà se saremo in grado nei prossimi anni di attrarre investimenti privati e allora sì che faremo il salto di qualità che tutti noi ci attendiamo. Accennato all'ex Bramante, vorrei chiedere di entrare un po' più nel merito, cioè come è la situazione, se c'è un fondo israeliano, insomma qual è nel dettaglio? Allora, questa dell'ex Bramante è fresca fresca, è una notizia ancora non formalizzata, ma insomma che è abbastanza certa, quindi posso darvi. L'ex Bramante è stato venduto anni fa a Cassa Depositi e Prestiti, adesso Cassa Depositi e Prestiti ha chiuso, sta chiudendo la trattativa con un fondo inglese legato ad alcune aziende del territorio per trasformare l'ex Bramante. Ho già incontrato alcune di queste aziende locali che sono in contatto con il fondo inglese e una delle cose che ho chiesto ad esempio è prevedere nel piano di Recublo e anche un albergo, proprio a dimostrazione di come cercheremo di... ma dovrebbero essere contenti tutti perché anche qui è un po' come sul commercio, no? Quando all'inizio c'era la mentalità, dice ah mi apro un negozio di fianco mi fa concorrenza, è l'esatto contrario. Più negozi nascono più gente viene. Prendiamo Baia Flaminia che in questi anni è cambiata tantissimo. Baia Flaminia è diventata il polo del food e non è che ogni ristorante che apre fa concorrenza all'altro, ogni ristorante che apre porta più gente a Baia Flaminia e stessa cosa gli alberghi, un aumento degli alberghi e una competizione positiva tra gli alberghi in termini di qualità aumenta l'accoglienza pesarese e il mio parere porta più gente. Il rischio vero che noi abbiamo è che in alcuni momenti dell'anno, penso ai momenti delle grandi manifestazioni sportive e dei grandi convegni, portiamo a Pesaro grandi manifestazioni e poi mandiamo la gente a dormire da Rimini a Senigallia e quindi è chiaro che il tema degli alberghi è fondamentale perché altrimenti non rimane sul territorio la ricchezza che dovrebbe rimanere. Magari mangiano, bevono, visitano i nostri musei o partecipano agli spettacoli dei nostri teatri ma non dormono e di conseguenza perdiamo un pezzo importante della ricchezza del nostro territorio. Con gli albergatori c'è un rapporto splendido, all'inizio non era così, abbiamo costruito con Oliva e con tutti gli albergatori un rapporto splendido e loro stessi sono consapevoli che il pubblico ancora deve fare tanto ma questo tema dell'accoglienza alberghiera farà la differenza nei prossimi anni. Nello specifico, mi interessa anche a me infatti l'ex Bramante ancora, ma nello specifico il piano di recupero oltre all'albergo prevede anche dei negozi, degli appartamenti residenziali, cosa è stata anche la nostra scuola? Sì, che sia stata la nostra scuola anche qui no? Allora noi non dobbiamo essere troppo nostalgici perché la città è un organismo che vive se si trasforma. L'ex Bramante non è vincolato per fortuna e quindi può essere completamente abbattuto e ricostruito. Anche per questo casse depositi e prestiti l'ha comprato perché se era del tutto vincolato probabilmente non lo comprava. Anch'io sono andato a scuola al campus ma spero che tra vent'anni i miei figli vedano un campus migliore o diverso rispetto a quello che c'è adesso perché il campus scolastico che negli anni 70 era all'avanguardia oggi è una delle strutture dal punto di vista energetico peggiori della città. Caldissimo d'estate, freddissimo d'inverno con i tetti piatti pieni di infiltrazioni. Quindi è chiaro che la città cambia, non dobbiamo essere sempre nostalgici. Anche qui c'era il Cursal una volta, allora ci rifacciamo il Cursal. Cioè questo dibattito iper nostalgico non serve alla città. È chiaro che noi dobbiamo preservare le cose storicamente importanti ma dobbiamo avere anche la capacità di trasformarla la città laddove non ci sono cose architettonicamente rilevanti perché altrimenti la città muore e quindi la trasformazione della città è un elemento fondamentale. L'ex Bramante si può fare il piano terra tutto commerciale e sopra si può fare di tutto sia residenziale che servizi e altro. Noi abbiamo, dobbiamo avere mille metri quadri per il pubblico. Io non escludo che una parte di questi mille metri quadri la daremo al CEIS così come ci siamo impegnati a fare per attività sociali, una delle realtà legate da un Gaudiano più importanti della città. Il resto va deciso dai proprietari in base alle volumetrie esistenti. Quindi non si costruirà un metro quadri in più di quello che è possibile fare. Sotto si potranno fare anche i parcheggi. Una delle cose che sto iniziando a discutere, sono state una prima chiacchierata informale con le aziende che hanno deciso di investire su questo bene e come con gli oneri di urbanizzazione poter provare a risolvere il tema del collegamento tra il centro e il mare. Perché noi abbiamo piazza Aldo Moro che è scollegata dalla zona mare perché attraversata dalla statale. Abbiamo i sottopassi pedonali che a peso non usa nessuno. È un grande problema. Più li riqualifichiamo, meno li usano. E quindi vorrei affrontare con loro questo tema. È chiaro che il mio sogno sarebbe quella di un'unica piazza, diciamo, un passaggio pedonale o ciclabile dalla piazza alla palla di pomodoro. È un tema molto complesso, si è provato ad affrontare anche in passato molto costoso perché significa mandare sotto la nazionale, quindi di conseguenza creare un sottopasso per la nazionale. Però io credo che legato all'ex Bramante è un tema che vada affrontato in maniera più concreta rispetto al passato perché abbiamo il tema degli oneri di urbanizzazione che possono essere una parte fondamentale per trasformare quell'area di città. Vado avanti, ma società inglese e partner locali chi sono? Si può sapere o deve restare un mistero? Non si rileveranno i prossimi giorni loro, però di certo il fondo è un fondo inglese e ci sono dei partner locali che stanno facendo già investimenti a Pesaro. Siccome non sono certo se abbiano già firmato il contratto oppure no, aspetto che siano loro stessi a pronunciarla, però se ve lo dico è perché la reputa una cosa ormai certa. Allora, cambio un attimo tema perché mi è venuto in mente questo qui della Statale. Sempre nel famoso documento di Pesaro 2030 si è riparlato dell'arretramento della ferrovia. Ma veramente ci si crede a questa possibilità di arretrare la ferrovia? E' oggettivamente molto complicato, però c'è una finestra aperta interessante perché Ferrovie dello Stato ha deciso di investire diverse risorse per potenziare la Bologna-Bari. La Bologna-Bari, come sapete, il traffico ferroviario e in generale la mobilità nazionale è cambiata tantissimo da quando c'è l'alta velocità. E Bologna per noi, e questo è un punto centrale del documento che abbiamo fatto, diventerà sempre più l'hub infrastrutturale della nostra città e dalle nord delle Marche. Lo dico perché oggi per andare in qualsiasi parte d'Italia andiamo a prendere spesso e volentieri, cambiamo il treno a Bologna perché da Bologna con l'alta velocità si arriva ovunque. Lo dico perché tra qualche mese avremo la navetta che dalla stazione di Bologna arriverà in nove minuti all'aeroporto e quindi l'aeroporto di Bologna sarà sempre più il nostro aeroporto internazionale. E lo dico ovviamente anche per il traffico autostradale. Questo non toglie che io spero che l'aeroporto di Falconara possa ripartire con tutti gli sforzi che la regione sta facendo, così come spero che l'aeroporto di Rimini, dopo il fallimento che c'è stato e le difficoltà per la ripartenza possa appunto ridecollare. Però Bologna rimane per noi, sarà per noi sempre più lab fondamentale per la mobilità. Rimane il tema del potenziamento dalla Bologna-Bari. Non si farà l'alta velocità ma si farà la media velocità, cioè si porterà la velocità dei treni di media tra Bologna-Bari a 200 km orari. In questo progetto Ferrovie dello Stato ha trovato un problema nel tratto Cattolica-Pesaro perché la ferrovia uscendo da Cattolica, arrivando a Pesaro, fa una serpentina e quella serpentina non gli consente di tenere quella media di velocità. Noi insieme al Comune di Fano ci siamo inseriti in questo problema progettuale e abbiamo rilanciato un progetto storico che la provincia aveva di arretramento della ferrovia e c'è in campo un gruppo di lavoro tra le ferrovie, il Ministero, il Comune e la Regione per studiare questa pratica. Mi rendo conto che è una cosa futuristica, è un lavoro iniziato con il vecchio governo adesso il cambio di governo ovviamente non si favorisce perché comunque è un elemento di discontinuità se non altro negli interlocutori però è una partita che vogliamo giocare e che vale la pena giocare perché mi rendo conto che è complicata, che è futuristica ma cambierebbe drasticamente la città dei prossimi decenni quindi la stiamo giocando e la stiamo giocando con grande determinazione. Torno a parlare di turismo di estate, ha incontrato i bagnini dopo i problemi dell'anno scorso sul tema degli eventi, delle feste? Non so se li abbiamo incontrati, li incontreremo forse dopo le feste ma qui c'è un tema secondo me fondamentale una delle cose delle quali vado più orgoglioso dopo questo se volete magari facciamo fare anche qualche domanda se qualcuno vuole uno dei temi dei quali ci sono dei numeri che mi inorgogliscono moltissimo uno è il numero degli abbonamenti a teatro 2200 abbonamenti a teatro se li paragoniamo allo sport sono numeri incredibili la Vispesaro in serie C, clima di grande entusiasmo, ha fatto 1000 abbonamenti e la città del basket ha fatto 3000 abbonamenti quindi se pensiamo questo numero rapportato allo sport dimostra come investire sulla cultura poi paghi paghi anche in termini di innalzamento di civiltà della propria popolazione un altro numero del quale io vado molto fiero è il calo drastico dei morti nelle strade il sabato sera Simonetta lo sa perché lavora a Pesaro da tanti anni ma noi per interi weekend per diciamo per tanti anni noi abbiamo avuto la domenica mattina lunedì mattina la prima pagina dei quotidiani locali sulle stragi del sabato sera i pesaresi la mia generazione quella prima della mia quella dopo per divertirsi dove andare per forza in Romagna e molti si schiantavano nelle strade io ci ho perso degli amici è stata veramente una strage ci sommiamo i morti che ci sono stati in 30 anni veramente è una strage incredibile la vivacizzazione della città per noi è anche una politica di sicurezza perché il fatto che d'estate d'inverno ancora c'è tanto da fare anche se stiamo migliorando ma c'è molto da fare ma soprattutto nel periodo estivo gran parte dei ragazzi di Pesaro prendono la bicicletta e si vanno a divertire nelle feste in spiaggia nella nostra città ha ridotto drasticamente gli incidenti mortali durante il venerdì sera e il sabato sera poi non è solo la politica di vivacizzazione che ha dato questi risultati è cambiata la mentalità dei ragazzi oggi guidano quelli che non bevano quando eravamo giovani noi si guidava in situazioni incredibili c'è la patenta punti che ha influenzato positivamente la guida responsabile però il fatto che a Pesaro ci si diverta in bicicletta è sicuramente un contributo fondamentale che noi abbiamo dato qual è il problema? che a Pesaro noi non abbiamo locali da ballo noi abbiamo spiagge, bar sulla spiaggia e quindi non abbiamo locali di pubblico spettacolo nei locali che non sono locali di pubblico spettacolo in teoria non si può ballare questa è l'anomalia però devo dire che ho trovato da parte del prefetto del questore dei carabinieri grande consapevolezza che anche la sicurezza ha un ordine di priorità e per noi la prima priorità è non far morire ragazzi per strada e quindi ho chiesto al comitato di sicurezza di chiudere un occhio su questo tema del ballo perché se i bar e i bagnini fanno cose gravi danno da bere ai minorenni hanno lavoro nero ci sono meccanismi di spaccio è giusto che le forze di polizia intervengano e facciano chiudere i locali ma se noi cominciamo a chiudere i locali perché non si capisce se ascoltano la musica e ballano è finita e noi ci ritroviamo i ragazzi per strada che muoiono per strada io non voglio i morti per strada e quindi l'anno scorso c'è stato in una fase di controlli esposti eccetera hanno dovuto fare delle multe obbligatoriamente in alcuni locali anche perché oggettivamente c'erano troppe persone però io ricredo o continuo a chiedere lo stesso equilibrio anche per la prossima estate perché se noi richiediamo ai bar e ai bagnini di avere le normative dei locali da ballo quelle normative non le avranno mai perché non sono locali da ballo e quindi bisogna avere equilibrio e buon senso quando si amministra una città ci vuole buon senso anche quando si gestiscono fenomeni complicati come quelli legati alla sicurezza per parlare un pochino più del contingente sempre restando però su questo tema perché qui veniamo tutti dai tragici fatti di Corinaldo siamo un po' in tema di feste di solito è tradizione di Pesaro fare la festa del 31 dicembre in piazza sotto l'albero ancora non abbiamo avuto certezze o iniziative ufficiali le chiediamo ci sarà una festa in piazza verranno prese delle misure particolari proprio visto quello che è successo a Corinaldo è chiaro che ancora siamo tutti sconvolti da quello che è successo a Corinaldo tutti noi ci siamo immedesimati nell'angoscia e nel dolore di quelle famiglie il dolore delle famiglie che hanno avuto le vittime l'angoscia delle persone che avevano i bambini i ragazzini lì e diciamo la preoccupazione e lo stato d'animo di coloro che ancora hanno i figli in ospedale per fortuna dei casi più gravi insomma molti stanno migliorando compreso un ragazzo pesarese come sapete e quindi siamo ancora tutti scossi da quello che è successo io vorrei evitare che anche questa volta si sviluppi in Italia un dibattito esclusivamente motivo perché noi rischiamo di perdere di vista poi i risultati perché è successa quella cosa a Corinaldo? innanzitutto perché un cretino delinquente ha sprustato una cosa al peperoncino che paradossalmente è stata legalizzata per creare sicurezza e diventato in verità uno strumento di insicurezza potremmo aprire una discussione infinita sulla diffusione delle armi ma diciamo capite che insomma anche questo è un tema da affrontare perché spesso e volentieri noi per avere più sicurezza legalizziamo o in qualche modo incentiviamo la diffusione di strumenti di difesa che spesso e volentieri diventano poi strumenti che creano insicurezza ma potremmo aprire su questo un dibattito infinito dopodiché ci sono problemi ci sono responsabilità del locale legato al numero di persone eccessive fatte entrare è chiaro che dovranno pagare fra l'altro il pubblico ministero che viene da Pesaro avverto un'indagine ci sono degli indagati e quindi è giusto che si faccia giustizia e che tutti i locali rispettano le regole questo non vuol dire però come dire creare dei meccanismi per cui non si fanno più le feste non si fanno più i concerti non si fanno più le manifestazioni o rendere impossibile l'organizzazione di questi eventi dopo i fatti di Torino per molte organizzazioni è diventato impossibile organizzare le iniziative le proloco stanno impastendo perché si chiede al proloco di Candelara delle normative di sicurezza e dei costi della sicurezza ingestibili ci vuole equilibrio allora è evidente che noi faremo la festa in piazza e speriamo che venga più gente possibile anzi io spero che il centro storico si riempa di iniziative e quindi ovviamente saremo ancora più attenti alle norme di sicurezza ma noi dobbiamo essere anche sempre più capaci di organizzare eventi e farlo in sicurezza cioè la sfida non è non fare la sfida è fare bene perché se noi invece rispondiamo purtroppo a tragedie come quelle che ci sono state non facendo facciamo un errore enorme e credo che faremmo uno sbaglio non solo per la città ma in particolar modo per i giovani della città considerazione veloce e richiesta considerazione è che abbiamo intrapreso un percorso che è partito dalla bellezza e cultura come motore per la città e siamo riusciti a convincere quasi tutti che la musica e i Rossini sono un elemento trainante poi attraverso la vivacità abbiamo parlato di turismo attraverso la vivacità abbiamo parlato di sicurezza io spero che si possa continuare e si possa arrivare a parlare sempre più di lavoro come conseguenza di tutto questo percorso finalizzare tutto questo grande movimento che è stato fatto con il lavoro come conseguenza diretta per gli artisti e per gli artisti del territorio intanto grazie anche all'orchestra sinfonica Rossini per il contributo che ha dato questa strategia perché poi come dicevo prima non è che il sindaco attacca il cartello città della musica e diventiamo città della musica adesso intanto è il mondo che ce lo dice perché ce l'ha riconosciuto l'UNESCO non è più un sindaco matto che attacca il cartello città della musica ma la città della musica è la città c'è un simbolino che a mio parere è diventato emblematico della consapevolezza nuova della città che è questo city brand che voi trovate in tutti i negozi di Pesaro se vi ricordate a proposito di diffidenza dei pesaresi nelle novità quando abbiamo presentato il city brand che è un modo per in qualche modo rafforzare la strategia di marketing della città abbiamo avuto settimane di polemiche ah ma perché non è nuovo ah ma è un cuore ribaltato l'avete copiata a New York l'avete copiata a Pordenone polemiche infinite sul city brand e nessuno pensava fosse una cosa seria il tema del city brand oggi non c'è un negozio del centro storico che non espone con orgoglio il city brand città della musica e anzi li abbiamo dovuti rifare perché ce li chiedono anche i negozi fuori dal centro storico se ci pensate è una piccola cosa ma è la dimostrazione che quei negozi hanno capito di essere un pezzo della strategia tutti sono un pezzo della strategia della città della musica e noi vogliamo far diventare la musica e la cultura sempre più un elemento di lavoro sempre più un elemento di sviluppo ieri abbiamo premiato Lions Mariotti e ovviamente sono stati raccontati i numeri del ROF quanto producono in termini di lavoro in termini di richieduta economica e noi vogliamo farlo tutto l'anno tant'è che il ROF sta andando in giro per il mondo e stiamo cercando di destagionalizzare sempre più gli avvenimenti anche musicali e culturali ma anche qui c'è una strategia ben precisa perché abbiamo lavorato tanto per avere il riconoscimento UNESCO e perché abbiamo lavorato tanto per costruire una rete con le altre città della cultura italiana Matera, Parma, Alghero, Mantova perché tutti gli operatori turistici sanno che nei prossimi anni ci saranno almeno 200 milioni di nuovi turisti che verranno dall'est del mondo Cina e sud-est asiatico in particolar modo Questi 200 milioni di turisti, cioè crescendo la classe media di quei paesi sono molto attratti dall'Italia, dalla bellezza italiana non cercano il mare perché come sapete non si vogliono abbronzare ma cercano la cultura e l'Italia ha un problema che il tragitto classico Roma, Firenze e Venezia ha un problema di overbooking quindi noi abbiamo in quelle città un problema opposto di troppi turisti e quindi di un turismo di massa che crea problemi la strategia che noi abbiamo messo in campo è una strategia di 10 città italiane che vogliono offrire al turismo esistente e al turismo potenziale una rete di città italiane della cultura per attrarre il nuovo turismo quindi come capite è tutta una strategia attesa a portare lavoro e sviluppo per questo dico ci vorrà tempo ma dobbiamo essere determinati dobbiamo essere consapevoli della nostra forza dobbiamo sapere che pesano tante cose ma che Rossini e la musica possono diventare la punta di diamante il centro avanti di sfondamento per offrire tutto il resto e quindi siamo ancora all'inizio però io credo che l'abbinata UNESCO centocinquantesimo sia diventata per noi un trampolino di lancio quindi il centocinquantesimo non è un punto di arrivo ma è un grande punto di partenza per questo lavoro che insieme dobbiamo continuare con le orchestre col conservatorio con la fondazione Rossini fra l'altro stiamo coinvolgendo ci stiamo sprovincializzando perché abbiamo coinvolto Gianni Letta come presidente della fondazione Rossini abbiamo coinvolto Walter Veltroni nella mostra del nuovo cinema quindi stiamo cercando anche di attrarre grandi personalità nazionali in grado di supportare questa strategia sulla scuola sulla scuola abbiamo fatto un ragionamento molto semplice abbiamo detto investiamo le risorse del comune nella ristrutturazione di scuole che sono ristrutturabili dove vale la pena la ristrutturazione e ogni anno da tre anni ormai mettiamo 5-600 mila euro all'anno per la straordinaria manutenzione delle scuole attraiamo risorse da bandi regionali e nazionali per sistemare le scuole che abbiamo ma contemporaneamente guardiamo le scuole nelle quali non è diciamo utile buttare risorse nella ristrutturazione perché servono troppe risorse e di conseguenza è meglio pensare a scuole nuove così nasce l'idea della nuova scuola di Viala Marmora perché tra nel check up che abbiamo fatto delle scuole pesaresi l'olivieri era quella che richiedeva più interventi quindi abbiamo deciso di farla nuova una scuola media e la stessa cosa abbiamo fatto sulle scuole elementari per cui la scuola che ha bisogno di maggiori interventi perché come l'olivieri è un vecchio capannone era un vecchio supermercato è la Mascarucci e quindi vorrei nel prossimo quinquennio realizzare la nuova scuola elementare Mascarucci quindi abbiamo avviato la nuova scuola media in Viala Marmora e i prossimi anni uno degli obiettivi che abbiamo è fare la nuova scuola elementare di Soria alla Mascarucci è un obiettivo che abbiamo e che se i pesaresi ci daranno continuità di azione porteremo avanti nei prossimi anni le ultime due domande poi chiudiamo Allora a questo punto andiamo diritto sulle politiche sulle prossime amministrative ce ne spartiamo una testa praticamente Sindaco, allora il centrodestra si sta un pochino mobilitando Baiocchi, Mocchi comunque sta stringendo per il centrosinistra abbiamo la sua candidatura bis ha già in mente come si chiamerà la sua lista civica che ruolo avrà il PD in questa lista civica questa lista del sindaco che aveva annunciato qualche mese fa io ovviamente tutti sanno di che parte politica sono io sono orgoglioso di essere un uomo di sinistra riformista nel solco anche della tradizione della nostra città dopodiché io credo che un buon sindaco deve coinvolgere le energie migliori della città perché a livello locale contano le persone contano i fatti, contano i progetti io sto incontrando tantissime persone poco fa ero con i geometri ieri queste sere ho tre quattro cene a sera e in ogni ambito nel quale vado di Pesaro trovo persone competenti con idee innamorate della città che vogliono dare una mano alla città e ne trovo tante che non la pensano politicamente come me che non voteranno allo stesso modo in cui voto io a livello nazionale mai ma che a livello locale apprestano il lavoro che abbiamo fatto e vogliono darci una mano quindi noi avremo una coalizione fortemente civica con tante liste civiche nelle quali proveremo a coinvolgere persone a prescindere dall'appartenenza politica nazionale in un progetto di città nelle cose che abbiamo fatto in un progetto di città questo è lo schema che avevo quattro anni fa e a maggior ragione ce l'avrò il prossimo anno quindi avremo più liste civiche ci sarà la mia lista civica sicuramente la lista del sindaco come si chiamerà? Matteo Ricci sindaco l'altra volta si chiamava Matteo sindaco stavolta si aggiungiamo il cognome perché c'è un'inflazione di Mattei e quindi insomma vorrei specificare di che Matteo si tratta poi avremo la lista civica cappeggiata da Enzo Belloni bene come si chiamava Massimo una città in comune avremo la lista del faro che è la lista che riguarda il San Bartolo le colline del nostro territorio ho chiesto a Briglia di continuare a lavorare su questa esperienza civica magari facendo un'apertura molto forte a sinistra sto ragionando in altre liste civiche anche su altre liste civiche e poi spero che alcuni soggetti possano essere della partita io vorrei sicuramente un'alleanza sinistra se ci sarà un soggetto organizzato a sinistra sto dialogando con Pizzarotti perché non è escluso che alcune di queste realtà civiche possono entrare nella rete nazionale che Pizzarotti sta creando ma in generale io mi rivolgerò ai pesaresi mi rivolgerò ai pesaresi che amano la città che pensano che Pesaro in questi anni sia cambiata che pensano che al di là delle idee politiche abbiamo le persone, le risorse le idee migliori per andare per costruire anche il futuro di Pesaro questo sarà l'approccio sarà un approccio molto pesarese molto locale e cercherò di coinvolgere le energie migliori che in città ci sono e già tante ne ho individuate tante mi hanno dato la disponibilità e mi auguro che tante mi daranno una mano del resto non siamo molto preoccupati degli avversari perché noi sappiamo benissimo che gli avversari non hanno voti locali non hanno consenso locale gli avversari hanno simboli nazionali e quindi cercheranno di avere un traino dei simboli nazionali che più di altri tirano ma a livello locale si scelgono le persone quindi si illudono perché io sono convinto che la metà di quelli che hanno votato 5 Stelle e lega alle ultime elezioni politiche voteranno per noi alle elezioni comunali Le chiedo se ha idea di cosa farà Renzi e semmai se ha un'idea cosa farà poi lei in conseguenza di ciò che farà Renzi poi in questo mese e mezzo di mio lavoro acquapeso ci sono successe politicamente alcune cose una l'elezione di costo di segretario regionale del PD frutto anche dell'accordo dell'asse nord-sud del PD ma anche dell'accordo di realpolitik tra lei e Ceriscioli e poi mi ha colpito a proposito di elezioni comunali il fatto che ho pubblicato due volte attacchi di Giovannelli nei suoi confronti e quindi due attacchi in un mese e mezzo non mi sembrano un caso e allora visto che siamo sulla torre chi buttiamo giù dalla torre tra Giovannelli e Ceriscioli? No, io non butto giù nessuno sicuramente non butto giù nessuno è normale che quando si amministra c'è anche chi protesta il cambiamento produce anche una protesta è evidente che noi io pur venendo da una tradizione diciamo dalla tradizione storica della città che viene dalla sinistra e dal centro-sinistra ho sicuramente impostato un lavoro diverso rispetto al passato su alcuni temi e questo credo che sia anche giusto perché ogni sindaco è portatore di una novità e ogni sindaco io credo il giorno dopo che è sindaco non rappresenta la propria parte politica ma rappresenta tutti questa è la sfida prima viene la fascia tricolore poi viene l'appartenenza politica e io pur avendo una connotazione politica chiarissima e netta prima di tutto faccio gli interessi di Pesaro non del mio partito è un'impostazione che sicuramente in alcuni casi ha magari prodotto anche qualche tensione anche qualche incomprensione ed è normale ed è normale che ci sia io non credo che saranno sarà l'ultimo l'attacco che hai pubblicato ne arriveranno altri c'è anche l'idea diciamo che chi come dire questa è una cosa storica no? cioè che si stava meglio quando si stava peggio è normale che ognuno è geloso anche dell'impostazione che si è data nel suo periodo storico magari non comprende fin in fondo l'impostazione nuova che uno dà è normale voglio dire il cambio generazionale quando io sento parlare dei giovani come ai giovani di oggi no? sono un disastro e cioè non è vero niente i giovani di oggi probabilmente sono migliori di quando ero giovane io per tante cose poi per alcune cose magari sono peggiorati ma quest'idea che chi viene dopo diciamo non è mai all'altezza di chi c'era prima è un'idea in generale sbagliata e lo dico anche per me quando capiterà a me la stessa cosa probabilmente capiterà a me anche la stessa cosa tra qualche tra qualche tra qualche anno quindi è normale che sia così non me la prendo non butto giù dalla torre nessuno sono convinto che qualche critica continuerà ad arrivare io la prendo sempre come stimolo per fare meglio e anzi l'ascolto sempre con grande interesse soprattutto quando arriva da un ex sindaco che comunque ha un'esperienza e sicuramente ha tante cose da dire sull'aspetto regionale io ho dato una mano in questa fase perché credo che la regione Marche stia facendo molte più cose di quelle che riesce a comunicare è in una fase critica legata per il terremoto e credo che avrebbe fatto un errore madornale il PD a fare un congresso contro la regione se ci sono delle cose da cambiare sicuramente vanno cambiate Gostoli ha la capacità di fare anche aggiustare il tiro alla regione su quello che serve sui cambiamenti necessari ma l'idea che noi che esprimiamo il presidente della regione facciamo un congresso regionale contro la regione l'ho trovata abbastanza sbagliata e per questo ho contribuito a costruire una candidatura la più unitaria possibile devo dire che Gostoli si è affermato con grande forza adesso ha un compito vero che è quello di recuperare Ancona perché il governo della regione non ci può essere senza Ancona per la forza per il numero per il traino che Ancona e la provincia rappresentano per la regione e quindi credo che il compito che Gostoli avrà è quello di recuperare un'unità di intenti in particolar modo con la zona Anconetano per il livello nazionale io non so cosa fa Renzi temo che ormai si sia messo in una strada che lo porterà a fare un nuovo partito una nuova formazione mi auguro di no ma temo che la strada sia questa io così come gli altri sindaci abbiamo firmato siamo usciti subito dopo la rinuncia di Minniti dicendo che noi rimaniamo nel PD io non credo ai partiti personali ho come dire per me Renzi non solo è un amico ma è una persona che credo ha fatto tantissimo negli ultimi anni è stato un grande innovatore quando era il governo ha fatto sicuramente tanti errori su molte cose secondo me non è stato neanche compreso ha un carattere particolare e quindi insomma nulla di personale ma io nei partiti personali non ci vado non lo seguirò rimango nel PD e così come me faranno praticamente quasi tutti i sindaci italiani possiamo buttare giù dalla torre allora Renzi? no no anche perché lo dico per chi come dire io sono rimasto abbastanza male nell'ultima fase politica ovviamente non nascondo anche un po' di delusione perché avevo contribuito a costruire questa candidatura di Minniti per tenere unito il PD ed evitare che il congresso diventasse un congresso contro Renzi perché lo reputavo una cosa del tutto sbagliata quindi sono rimasto male dall'atteggiamento anche ultimo del defilarsi diciamo delle voci dei retroscena sul nuovo partito mai smentito del tutto e via dicendo dopodiché noi siamo in un sistema proporzionale quindi io mi auguro che Renzi rimanga nel PD ma anche se dovesse fare una cosa sua comunque il tema dell'alleanza tra il PD ed eventualmente nuove cose che nascono nell'ambito del centro-sinistra si pone quindi come dire non è che si possono rompere i ponti del tutto perché altrimenti rischiamo di non ritornare più a livello nazionale al governo al governo del paese no no non ci penso neanche nel momento l'ho detto un minuto dopo e insieme a me altri sindaci che più di me diciamo sono stati legati a Renzi in questi anni penso al sindaco di Bari al sindaco di Firenze al sindaco di Reggio Calabria al sindaco di Bergamo Gori tutti abbiamo detto che noi stiamo nel PD adesso il congresso ci preoccupa perché è un congresso diciamo che parte munco per alcuni aspetti dobbiamo impegnarci a farlo funzionare siamo molto preoccupati perché nel 2019 siccome io tra le varie cose mi hanno lasciato la bega della responsabilità degli enti locali perché fino a marzo fino al congresso sarò ancora responsabile degli enti locali nel 2019 si voti in 4200 comuni in 5 regioni e quindi noi sindaci non solo ci siamo rimasti male ma siamo anche molto preoccupati perché vorremmo un partito nazionale che ci aiuta sulle amministrative e non che ci porta giù insomma quindi siamo anche abbastanza preoccupati in vista delle amministrative lavoreremo per far riuscire il congresso per farlo diventare un'occasione di ripartenza nonostante tutto la prossima settimana promuoveremo un manifesto riformista delle città e poi ci confronteremo con i candidati poi ognuno di noi deciderà chi sostenere presumibilmente dopo la pausa natalizia questo è un po' lo schema di lavoro che ci siamo che ci siamo ho lavorato su Minniti ho sempre pensato che in questo momento servisse una persona forte autorevole in grado di gestire questa fase drammatica nel momento in cui si sta incrinando diciamo la luna di miele del governo populista con gli italiani ancora in un grandissimo consenso ma questa legge di bilancio è diciamo è diventata la cartina di tornasole diciamo di a mio parere anche dell'incompetenza che c'è dietro 2,4 è diventato 2,04 gira sui social una bella immagine che al posto di Di Maio sul balcone a festeggiare c'è Juncker insomma ne abbiamo viste di tutti i colori in questi giorni domani ci tornerò domani sto raccogliendo i dati di quello che sta succedendo col decreto sicurezza domani credo domani o al massimo lunedì farò una comunicazione pubblica perché dietro la propaganda si sta scaricando il tema della sicurezza sulle città e noi rischiamo di avere molti più problemi rispetto al passato in questo momento noi avevamo bisogno di un centro-sinistra autorevole e forte che poteva diventare alternativa Minniti mi sembrava la persona più autorevole avevamo raccolto 550 firme di sindaci Minniti per i motivi che ho detto prima diciamo la l'indecisione la confusione rispetto alla nascita dei nuovi partiti è deciso di non candidarsi è chiaro che adesso dovremo decidere chi sostenere o se sostenere qualcuno perché l'importante per noi è che riesca il congresso e che chiunque vinca il giorno dopo venga riconosciuto e rispettato perché abbiamo elezioni europee elezioni amministrative troppo importanti e devono essere un punto di ripartenza quindi cercherò di dare una mano nazionale su questo tema sempre con una grande responsabilità e un grande profilo unitario e questo è il profilo che ci siamo dati e continueremo a lavorare su questo grazie a tutti grazie anche per aver sopportato il freddo e questa iniziativa un po' particolare però abbiamo visto la nostra bella città dall'alto quindi è stata anche un'occasione per salire sulla torre grazie ancora a De Carlo grazie a Fiaccherini grazie a Simonetta Marfoglia grazie a tutti i giornalisti che sono qua e che hanno che si consentono di far diventare questa intervista anche un bel evento mediatico locale grazie a tutti e approfitto per augurare buon Natale a tutti voi e alle famiglie che ci vedono ora a casa grazie ancora allora siamo con Roberto Fiaccherini del resto del Carlino e Simonetta Marfoglia che questa sera hanno condotto la serata che il sindaco di Pesolo tradizionalmente dedica ai cittadini intanto volevo chiedere a tutti e due cosa pensate di questa location di questa formula innovativa brillante è stato divertente Simonetta e capiterà una sola volta quindi è stato piacevole coraggiosa per l'idea e coraggiosa per chi ha partecipato perché in questo momento vi posso assicurare tutto vero tutto provato abbiamo fatto un'ora e mezza e soprattutto ci hanno ascoltato un'ora e mezza fermi e completamente a queste temperature di pochi gradi sopra lo zero quindi coraggiosi tutti coraggiosi il sindaco ecco Simonetta come hai trovato il sindaco di Pesolo in forma concentrato credo che il sindaco sia concentrato in questo momento concentrato sulle elezioni concentrato lui sta concentrato su più fronti da una parte ci sono le elezioni amministrative e lui sa benissimo che deve vincere al primo turno comunque deve provare a vincere al primo turno per non creare altre alleanze e soprattutto credo che poi sia anche concentrato a livello nazionale l'ha spiegato nell'ultima parte perché quello che sta diventando il PD purtroppo nessuno in questo momento lo sa senti invece Roberto che impressione hai avuto di questa serata poco che sei a Pesaro esatto da un mese poco più e io vengo da tre anni ad Ascoli Piceno quindi passo dal sindaco Guido Castelli di Forza Italia con un passato nella destra Movimento Sociale Alleanza Nazionale passo a Matteo Ricci l'apparente distanza partitica si annulla per molti versi nella somiglianza tra due personaggi che può sembrare inaspettata invece si condensa anche in una grande capacità comunicativa che è ben nota nel sindaco Ricci è nota anche nel sindaco Guido Castelli e vi assicuro che due personaggi curiosamente si assomigliano gli opposti si attraggono credo che siano anche ottimi amici peraltro insomma amicizia nata nel lanci se non sbaglio e quindi noto con curiosità in questo primo periodo pesarese e ricordando il periodo a scuola hanno proprio questa vicinanza che è appunto teoricamente politicamente insospettabile invece concretamente poi al di là degli steccati politici è una oddio in realtà adesso anche politicamente diciamo c'è una meno lontananza di prima ma c'è appunto una somiglianza una notevole somiglianza quindi giudizio su Ricci che tu hai chiesto a Simonetta e dico dal mio punto di vista la capacità comunicativa è nota a tutti ed è attualmente la forza vera di ogni politico ad ogni livello insomma e lui c'è la all'ennesima potenza insomma come ha dimostrato questa sera ma non c'era bisogno questa sera di dimostrarla insomma poi per quanto riguarda i contenuti adesso non so Simonetta che titolo farà ma poi vedremo io credo tra la vera questione di Renzi pure insomma che titolo farei ma allora sono indecisa perché sempre dobbiamo spacchettare la parte politica e la parte locale sulla parte locale mi ha molto colpito la partita che si sta chiudendo sull'ex Bramante perché è abbastanza nuova e forse è la vera novità che è uscita da questa ampia chiacchierata praticamente dove c'è stata una carrellata abbiamo fatto un gran bignami di questi quattro anni di amministrazione quindi mi pare che l'ex Bramante sia il titolo perché poi dopo dobbiamo dare i titoli noi alla fine chi legge i pezzi bisogna fare i titoli Roberto? Esatto allora di solito quando dai ai giornalisti una dieci notizie le dispongono in maniera completamente diversa probabilmente in questo caso mi sento di dire che sono d'accordo e poi c'è l'aspetto politico come quindi le sue sensazioni su Renzi che hanno un rilievo notevole mi pare sul fronte politico però ecco sul fronte cittadino mi pare l'ex Bramante sia la notizia della serata bene ci vorrebbero due pezzi nel senso che no anche perché effettivamente le cose quanto lui ha dichiarato su Renzi sono abbastanza importanti perché Matteo Ricci è stato tra i primi sostenitori di Renzi storici praticamente stasera ha preso decisamente le distanze dalla cosa di Renzi da quello che sarà il futuro Bene grazie per la vostra disponibilità e benvenuto a Pesaro grazie benvenuto a Pesaro grazie Grazie a tutti